eccoci allora siamo qui per fare una modifica artigianale a questa energy che non partiva più aveva questa spugna qua originale che l'aveva aspirata nel manicotto del filtro tutta inzuppata d'olio e adesso abbiamo messo la red sponge ovviamente la carburazione è diventata magra e quindi adesso non abbiamo i getti e abbiamo creato questo fantastico manicotto per strozzare il tubo originale andiamo ad inserirlo ok ora andiamo ad inserirlo diamo una siliconatina abbiamo già provato con questo la carburazione diventa perfetta poi adesso diamo una passatina col col dito intorno col silicone aspetta spriccolo un po' più dentro anche troppo forse è vero così lascelo un pochino fuori perfetto c'è tutto c'è tutto siliconato aspettiamo che si asciughi aspetta perfetto ottima ora lo lasciamo seccare poi è posto alla prossima alla prossima